Anche nel settore dei servizi immobiliari, quello che comprende gli agenti immobiliari, i loro fornitori, i loro clienti, quindi tutte quelle persone che comprano e che vendono casa, spesso sentiamo parlare di rivoluzione digitale, un riferimento esplicito alle metodologie, alle tecnologie che hanno cambiato il modo in cui le persone relazionano tra di loro e che impatteranno sul modo in cui tu ti rapporti con i tuoi clienti. Ti parlerò di questo e di molto altro durante l'evento voluto e organizzato dal collegio FIAIP di Monza e Brianza che si terrà presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Monza dedicato agli agenti immobiliari su come trarre le opportunità dal cambiamento. L'evento è completamente gratuito ma con registrazione obbligatoria ed è aperto anche ai non iscritti FIAIP. Durante la mattinata insieme a me interverrà anche Diego Caponigro che ti parlerà dei trend e delle tecnologie ormai saldamente insediate nel mercato americano. Renota subito il tuo posto seguendo il link che trovi nel commento sotto questo video. Non puoi mancare, ti aspetto!